Un forum internazionale delle industrie e della difesa si svolgerà in Ucraina in autunno per fare il punto su come sfruttare tutte le opportunità per produrre le armi necessarie al paese per liberare il territorio dall'invasione russa. Un'urgenza sollevata anche dalla NATO, la produzione non riesce a stare al passo della guerra. Il tema della fornitura di armi è sempre più rilevante mentre l'esercito ucraino cerca di dare una svolta alla sua controffensiva la cui efficacia dipende soprattutto dal sostegno militare dell'Occidente. Le battaglie più intense negli ultimi giorni si stanno svolgendo sul fronte sud vicino a Bakhmut, una delle città più dilaniate dal conflitto. Grazie a tutti.